Salve a tutti, sono Ettore Carloni, docente di Meccaniche e Macchine presso l'Istituto Archimede dell'indirizzo Apparate e Impianti Marittimi del Polo 3 Tecnico Professionale 3 Tifano. Perché scegliere l'indirizzo Apparate e Impianti Marittimi? Chi sceglie di iscriversi a questo indirizzo decide di compiere un investimento per il proprio futuro, per raggiungere una preparazione in termine di competenze e conoscenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi all'università o presso corsi paruniversitari. Possiamo risumere in tre concetti chiave la mission del nostro istituto. Primo, competenza tecnico-professionale. I nostri studenti acquisiscono competenze nell'ambito della progettazione, realizzazione e installazione di impianti e macchinari e componenti del settore nautico-impiantistico, attraverso l'uso di moderni sistemi di progettazione CAD tridimensionale o di simulatori impiantistici, nonché attraverso l'uso dei più tradizionali laboratori, come laboratori di meccanica, di automazione, di tecnica e di automazione. Secondo concetto, innovazione. La tecnologia, i materiali di lavorazione sono in continua evoluzione. I nostri studenti utilizzano le più moderne tecniche e tecnologie che troveranno poi nelle aziende della cantieristica, negli studi di progettazione o nelle altre aziende manufatturiere, come la stampa tridimensionale, che permette di realizzare, dopo averli progettati con sistemi CAD 3D, dei prototipi o dei componenti in scala reale o ridotta, come avviene ad esempio per i modelli degli scafi delle imbarcazioni. I simulatori di impianti poi, che abbiamo già citato in precedenza, sono in grado di creare tutti gli impianti con i relativi pannelli di controllo che sono presenti a bordo di una imbarcazione, dal sistema di propulsione alla centrale elettrica, dai sistemi usiliari alla plancia di comando con il radar, permettendo l'accensione, l'utilizzo e la regolazione di tutti quegli apparati che possiamo trovare o a bordo di un'imbarcazione oppure a bordo su un macchinario più complesso. Terzo concetto, occupabilità. I nostri diplomati trovano un impiego già poco tempo dopo il diploma, qualcuno addirittura prima del diploma. Trovano lavoro nella nostra provincia, polo internazionale della cantieristica, come progettista, come responsabile di coordinamento o come supervisione della produzione. Alcuni vengono assunti da aziende, da grandi aziende del panorama italiano internazionale. Per chi ama viaggiare poi, la Mantonare Navigazione SPA ha già firmato con il nostro istituto un partenariato già di diversi anni, per cui ha già arrolato a bordo delle proprie navi dei nostri studenti come ufficiali di macchine. Non sono pochi poi i ragazzi che proseguono gli studi, iscrivendoci alla facoltà di ingegneria, ingegnere, ingegneria meccanica o navale, oppure per proseguire gli studi presso i corsi pari universitari o presso gli ITS, gli istituti tecnici superiori. Nelle discipline di indirizzo, gli studenti apprendono a progettare, dimensionare, realizzare il componente, impianti che troviamo a bordo delle imbarcazioni, dallo scafo, di cui va calcolata la stabilità una volta che si è disegnata e progettata la forma, al sistema di propulsione con motori diesel, elettrici e con turbina a gas, oppure vari impianti come l'impianto del timone, l'impianto elettrico, l'impianto di condizionamento, riproduzione dell'acqua dolce. Molte sono perciò le ore dedicate alla meccanica, al disciplina di elettrotecnica, di automazione ed elettronica o a scienze della navigazione. I ragazzi poi apprendono anche la logistica, in un mondo in cui sempre più si è costretti a reperire all'estero prodotti, materiali, lavorati e semilavorati che vengono all'estero, in un flusso di prodotti e componenti in entrate e uscite dall'azienda che deve necessariamente essere regolato. Le scorte di magazzino, infatti, gli ordini e le spedizioni devono essere necessariamente integrate con le varie fasi del processo di produzione del prodotto. Molto importante è poi conoscere le norme del diritto internazionale che regolano i contratti di affitto, di trasporto, di locazione dei prodotti dell'imbarcazione e dei prodotti eventualmente trasformati. diversi sono loro di laboratorio, durante le quali i ragazzi sono chiamati a mettere in pratica le conoscenze pratiche che hanno appreso durante loro di teoria ed apprendere, oltre le citate tecnologie, anche le tecniche di saldatura, di automazione con gli impianti pneumatici, l'uso delle macchine utensili, le tecniche di realizzazione di parti di impianti elettrici o idraulici. Molteplici sono le opportunità che si offrono ai diplomati dell'indirizzo apparati impianti marittimi. Fondamentalmente i ragazzi seguono due strade. Una parte di essi preferisce entrare subito nel mondo del lavoro e i nostri diplomati trovano un impiego già in brevissimo tempo dopo il diploma. Nei cantieri navali o nelle aziende che producono e installano impianti per la cantieristica navale. Spesso trovano lavoro con posizioni di rilievo, come responsabili della progettazione, della produzione o della supervisione della produzione. Ci sono poi colori che invece scegliono di proseguire gli studi, iscrivendosi all'università, spesso l'università di ingegneria, navale o meccanica, oppure scegliendo di iscriversi ai diversi corsi paruniversitari o presso gli ormai diffusi ITS, gli istituti tecnici superiori.